Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. La situazione generale sulla nostra penisola sarà di stampa autunnale, con la presenza di un centro di bassa pressione a nord della Corsica, che apporterà maltempo diffuso e temporale al centro nord, sulle regioni tirreniche, Emilia-Romagna e nelle regioni del nord-est. Rovesci diffusi anche su tutto il centro. Anche il sotto non sarà risparmiato dal maltempo che si farà sentire già da oggi, ma in maniera più concreta a partire dal lunedì 19, quando la bassa pressione traslerà sul basso adriatico, apportando precipitazioni più diffuse. Ma andiamo a vedere il tempo sulle nostre regioni per domenica 18 settembre. Al mattino il tempo si presenterà soleggiato o poco nuvoloso su entrambe le regioni. Durante il pomeriggio avvertiremo un progressivo peggioramento del tempo, a partire da occidente, che andrà a interessare il nord della Lucania, Morge, Tarantino e infine il litorale Barese e Prendisino. Le precipitazioni risulteranno più abbondanti sulle zone interne delle Barese e coste Prendisine. Le temperature risulteranno in diminuzione sia nelle minime che nelle massime. Venti di ribeccio e dai quadranti meridionali di debole o moderata intensità interesseranno soprattutto il Foggiano, il Potentino e le coste Ioniche. Più calmi invece sui settori centro-orientali delle due regioni. Mari mossi o molto mossi sull'alto adriatico e Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Ivan per lo splendido acorbaleno scattato nei pressi di Fragagnano, Taranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappola, oppure alla mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Da Meteo One è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.